io sono meglio figo del bigonzo, ho il baffone, sono come il biramorettio da Francesco abbiamo il Pantera Rosa Italo, come il treno, ancora alla nostra destra abbiamo Umberto Severini, il pittore oggi vestito da senecalese e alla nostra destra ancora non abbiamo presentato prima abbiamo Mauro Fortina, il grande showman e poi al centro di tutto si trova Niki Giussino, salve!